Questa domenica siamo stati a Poirino alla fabbrica di Tacita. Per chi non lo sapesse Tacita è un'azienda italiana che produce moto 100% elettriche. Tacita l'avevamo conosciuta già nel 2013, infatti avevamo fatto una prima intervista, poi qualche anno successivo anche ad EICMA. Questa domenica ne abbiamo approfittato per fare un'altra intervista a Pierpaolo, CEO di Tacita, per raccontarci anche le novità elettriche di quest'anno. E adesso lasciamo la parola a Pierpaolo. Oggi presentiamo la nuova T-Race Motorelli, abbiamo presentato la gamma 2024-2025, in particolare la nuova T-Race Motorelli con le batterie da 13 kWh, carica batterie da 6,6 kW, carena integrale, ovviamente c'è la strumentazione per questa moto da rally, ma c'è anche solamente con il normale dashboard TFT. Questa ha VLTP, siamo ai 160 km, realmente questa è una moto da enduro, quindi facendo enduro con gli amici fa 100 km di divertimento. E poi abbiamo presentato finalmente la T-Cruise Turismo, questa moto in particolare ha batterie da 27 kWh, carica batterie da 19,8 kW in configurazione massima, manubrio comodo, posizione di guida comoda, quindi per noi questa è una vera moto per fare turismo elettrico. Hai un range VLTP superiore a 300 km e andando un po' bello tonico diciamo che fai sempre più di 200 km anche con il passeggero. Vuol dire qui da Poirino arrivare fino al mare divertendosi, andando belli allegri nelle curve e poi fermarsi a mangiare e godere della ricarica. Questa ha due opzioni di batterie, 18 kWh e 27 kWh, quindi ha le batterie centrali e anche le batterie sono nelle valigie posteriori. Metà sono batterie e metà sono spazio per i bagagli. Quest'anno abbiamo partecipato alla Dakar Mission 1000, è la prima volta che ufficialmente la Dakar apre una particolare categoria per i veicoli elettrici ed innovativi. Quest'anno c'erano moto elettriche e veicoli ad idrogeno. È stata un'esperienza molto importante dal punto di vista dei test, perché abbiamo portato innanzitutto due moto nuove, le di scanto, che saranno in vendita nel 2026. Una delle due era assolutamente in configurazione stock e quindi era il powertrain completamente di serie con le batterie future. E quindi abbiamo potuto verificare che anche nelle peggiori condizioni che abbiamo trovato nella sabbia vicino a Liwa, tra il confine tra l'Arabia Saudita e il Dubai, tutto ha funzionato perfettamente. Abbiamo raccolto veramente tantissimi dati per poter procedere al miglioramento delle nostre moto. È andata anche bene perché l'ultima tappa abbiamo fatto un 1-2, quindi ha vinto Sylvain e Spinach con il numero 1000 e Oscar Polli è arrivato secondo. Quindi è stata anche una bella prestazione di squadra portare tutte e due le moto al traguardo, vittoriosa in un'ultima tappa. Abbiamo deciso, comunque siamo gestiti per la Dakar 2025, perché riteniamo che veramente due settimane di Dakar siano più probanti di un anno di test fatto qua in Italia o comunque in giro. Quindi porteremo questa moto alla Dakar 2025 e ovviamente saranno di nuovo due prototipi, perché noi ci teniamo a testare nelle condizioni più dure possibili, quello che poi porteremo poco dopo nella produzione di serie per i nostri clienti. Ciò che non si rompe alla Dakar non si rompe durante la vita normale. A questo punto Pierpaolo, oltre che raccontarci le novità del 2024, ci ha portato anche nella parte delle moto storiche, raccontandoci qualche dettaglio in più su Tacita. Allora, qui c'è la tuta di Sylvain Spinasse, che con il numero 1000 è stata la prima moto elettrica in assoluto nel 2024 a partecipare alla Mission 1000 alla Parigi Dakar. Quindi è stata la prima moto a partire in tutte le tappe, in tutte le 10 tappe della Mission 1000. Qui abbiamo la prima moto che abbiamo mai fatto, quindi questa è una moto del 2012. Questa è la prima moto elettrica al mondo che ha corso un rally africano, il Mazzuga Rally nel 2012. E qui c'erano già tutti i particolari che poi abbiamo sviluppato nel corso degli anni, quindi il raffreddamento liquido, disposizione longitudinale e trasversale delle batterie, cambio con le marce e il raffreddamento liquido anche per il controllo. La moto è proprio lei, quindi è la prima moto che abbiamo mai integralmente costruito a mano. Questa è la T-Cruise che nel 2017 abbiamo esposto a Dayme Expo. Questa è praticamente la nonna della T-Cruise attuale, perché in mezzo ne abbiamo fatte due versioni. Abbiamo mantenuto alcune caratteristiche stilistiche, in particolare il serbatoio, mentre abbiamo cambiato praticamente tutto il resto a partire dalle sospensioni. Quest'anno le sospensioni sono tacite, abbiamo acquisito un progetto di sospensioni, sono integralmente fatte da noi, tutti i componenti, e abbiamo un tecnico molto esperto che ci segue nel setup. Nelle nostre moto viene fatta tutta qua a Poirino, quindi fisicamente abbiamo un centro di lavoro a 3, 4, 5 assi, torni con l'asse Y, diciamo tutta la parte meccanica viene fatta qui a Poirino. Per quanto riguarda gran parte della componentistica è fatta vicino a noi, nel senso che il telaio viene saldato a 10 km da noi, le plastiche vengono fatte a 12 km da noi, il trattamento termico viene fatto in provincia di Torino, e così vale anche per tutte le anodizzazioni. Quindi diciamo che nel nostro distretto abbiamo la possibilità di costruire dal punto di vista fisico e meccanico tutti i particolari che servono. Il controller è di nostra proprietà, così come il BMS che è un nostro progetto sviluppato da noi, hardware e software, così come cambio e frizione. Fuori abbiamo fatto provare la prima moto che abbiamo mai venduto ad un ragazzo italiano, Gabriele Grazie, che ce l'ha imprestata, del 2014. Avevamo un motor del 2017, un motor del 2024 per fare provare l'evoluzione che hanno fatto le moto, sia dal punto di vista della potenza, sia dal punto di vista della guidabilità. Avevamo le due moto che hanno corso la Michelmine e la Dakar, quindi la moto di Espinasse e la moto di Poldi, e abbiamo la T-Cruise Urban, quindi presentata ufficialmente nella livrea Carbon Kevlar. E sì, perché effettivamente siamo venuti qui anche per provare le loro moto elettriche per il 2024, e quelle disponibili in prova erano la tacita di scanto, che sarà disponibile poi nel 2026, la T-Cruise Urban e la T-Race Motard. Io ho scelto di provare la T-Race Motard, e mi sono state fatte anche provare le versioni precedenti alla T-Race Motard del 2024, ovvero la 2018 e 2014. Il test ride è durato circa un'ora, quindi le mie sensazioni sono un primo contatto con le moto, e ho scelto di provare Motard proprio perché io già tutti i giorni guido un Motard, un Suzuki D-RZ400, e quindi il confronto che avrei fatto tra una moto termica e una moto elettrica, sarebbe stato più fedele su una moto della stessa categoria. La prima moto che mi è stata fatta provare è proprio la versione del 2014 in configurazione Enduro, e nonostante la mia inesperienza nella guida sullo sterrato, e anche nella guida di una moto elettrica, perché effettivamente questa era la primissima volta che guidavo una moto elettrica, mi sono subito adattato e non ho avuto minimamente problemi. Per chi non sapesse, le motorità a città hanno la caratteristica di avere un cambio a marce a 5 rapporti, proprio come le moto termiche. Questo permette davvero l'erogazione della potenza del motore molto più modulabile rispetto alle moto elettriche senza marce. Il cambio funziona esattamente come sulle moto termiche, ovvero per cambiare marcia bisogna tirare la frizione, e c'è anche un vantaggio perché invece di partire giocando con la frizione e con l'acceleratore, sulle moto di tacita basterà girare l'acceleratore per partire. Quindi per i principianti sicuramente un grossissimo vantaggio, il fatto di non dover imparare a gestire anche la frizione in partenza. Il peso della moto, che supera i 140 kg, non mi ha causato minimamente problemi alla guida, infatti sono riuscito tranquillamente a divertirmi anche da neofita dell'enduro senza sentire la fatica di avere in mano una moto pesante. Poi sono passato alla moto del 2018, questa volta in configurazione motard, e anche qui mi ha stupito tantissimo la facilità con cui si guida e anche con cui mi ci sono adattato. Le strade che ho percorso non mi hanno permesso di provare la moto in situazioni estreme con chissà quali curve o angoli di piega, ma sono sicuro che se provate in pista questa sia una moto che faccia divertire tantissimo proprio grazie all'ottima ciclistica. E l'ultima moto che ho provata è stato il modello del 2024 che è disponibile alla vendita. Tutte le sensazioni di guida che ho avuto per il modello 2018 le ho avute anche qui, per il modello 2024, e anzi addirittura meglio. Si sentiva il progresso fatto in questi anni, e poi specialmente su questo modello ho potuto provare l'accelerazione. Il motore, che è omologato a 11 kilowatt, ha in realtà una potenza di picco di 34 kilowatt, ovvero 45 cavalli. E girando la manopola si sente parecchio che spinge, niente da togliere, di sicuro alle controparti termiche. E questo gli permette di essere guidata anche da persone che hanno solamente la patente B o solamente la patente A1, quindi direttamente a 16 anni. Ma quello che mi ha colpito di più è stato quanto mi sono riuscito a divertire anche senza il rumore del motore. Spesso le persone pensano che guidando una moto che non faccia rumore non sia una moto divertente da guidare e questo non è assolutamente vero. Anzi, ci possono essere dei notevoli vantaggi, come ad esempio non disturbare le persone intorno a noi che non sono amanti delle moto. La città, infatti, è stata creata proprio per questo, tornare a guidare la moto in posti dove non era più possibile farlo, a causa delle emissioni generate dalle moto termiche e dal rumore. Ma adesso torniamo e finiamo l'intervista a Pierpaolo. Quest'anno abbiamo in animo di produrre 100 moto, 300 per l'anno prossimo e 500 per il 2027. I mercati sono esteri, il mercato principale sono gli Stati Uniti e il Canada, secondariamente sono i mercati del nord Europa, in particolare Olanda, e a seguire tutti gli altri paesi, Svizzera, Francia e Spagna. Avremo piacere prossimamente di avere anche un dealer italiano e quindi chi vuole può venire a provarla qua in fabbrica oppure può contattare direttamente il nostro dealer. Se questo video ti è piaciuto, io ti invito a mettere un mi piace e iscriverti per rimanere sempre aggiornato sul mondo della mobilità elettrica.